L'Università delle Tre Età di Giarre si prepara all'apertura del nuovo anno sociale e, come da tradizione, una settimana prima dell'inizio delle attività, ha organizzato una Sacra Messa inaugurale presso la Chiesetta Sacro Cuore di Gesù dell'Istituto Sacro Cuore di Giarre, preseduta dall'arciprete della Chiesa Madre di Giarre, Don Nino Russo. Le attività per l'anno accademico 2017-2018 avranno ufficialmente inizio giovedì 26 ottobre e, come ormai consuetudine da diversi anni, si terrà presso la Sala Romeo del Palazzo delle Culture di Giarre una conferenza di apertura del professor Niccolò Mineo sul tema del Decameron di Boccaccio. Nella prospettiva socioculturale dell'Uni 3, oltre ai classici appuntamenti dedicati all'approfondimento di varie tematiche legate all'arte, alla medicina, alla scoperta del territorio, si tornano gite culturali in giro per la Sicilia e la consueta adesione alle rappresentazioni classiche del Teatro Greco di Siracusa. Per il mese di novembre è già stato stilato un ricco programma, che partirà il primo giovedì del mese con la conferenza intitolata Tutela patrimoniale e passaggio generazionale.